A tutti buongiorno, oggi il tempo sarà in gran parte soleggiato con qualche innocuo passaggio nuvoloso soprattutto in mattinata all'est, fresco di primo mattino ma mite in giornata con temperature massime tra i 13 e i 16 gradi, sui rilievi debolmente ventilato da settentrione e zero termico a circa 1500 metri.